Rami e tronchi spezzati come tanti fuscelli. È lo stato in cui versano numerosi alberi presenti su via dell'Idroscalo ad Ostia. Sono per lo più tamerici che delimitano i giardini condominali degli stabili Ather, conosciuti in zona come i Palazzi Rossi. La nevicata del 2017 ha fortemente compromesso la stabilità di queste alberature e le violenti raffiche di vento degli ultimi mesi hanno rappresentato il classico colpo di grazia. Le cadute hanno interessato sia i cortili che la sede stradale. Il marciapiede è ingombro di fronde per oltre 100 metri. In qualche caso i rami hanno invaso anche la carreggiata ostacolando il passaggio delle auto. La presenza dei nastri testimonia l'intervento della pulizia locale, che però si è limitata a circoscrivere le aree dove si sono verificati i crolli. Di fatto gli alberi sono tuttora pericolanti, ma nessuno è ancora intervenuto per rimuovere le situazioni di rischio. A completare un quadro già piuttosto desolante, cumuli di spazzature e di fogliame che ingombrano il passaggio rendendolo impraticabile. È vero che siamo a Nuova Ostia, ironizza amaramente una residente, ma anche qui c'è gente che lavora e paga le tasse. Non è giusto che siamo abbandonati.